Se avete un pannello nuovo da tagliare con laser e non sapete i tempi di taglio di questo pannello, LightBarn ci viene incontro. Andiamo a vedere come può aiutarci. Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale. Oggi parleremo di LightBarn soprattutto per chi ha le prime armi e per chi magari non conosce ancora perfettamente come funziona il programma. Una delle cose essenziali di LightBarn appena acquistate del legno nuovo è utilizzare dei test per non mandare in fail il progetto che state facendo. Ora vi spiego un attimo come funziona, ma prima cosa, la cosa più importante è la pulizia del laser. Quindi prima di passare su LightBarn vi faccio vedere un video come pulire il laser correttamente. L'unica cosa che vi dico di utilizzare è l'alcol isopropilico che è il migliore perché se utilizzate il solito alcol può lasciare degli aloni quindi il laser non funzionerebbe bene al cento per cento come dovrebbe. Vi conviene acquistare l'alcol isopropilico intanto non serve tanto da utilizzare e siete a posto. Ora vi faccio vedere con video come effettuare la manutenzione del vostro laser. Bene, vi ricordo che il mio laser è quello della scoop fan da 5,5 watt. Ora procediamo al smontaggio. Vi ricordo di utilizzare l'alcol isopropilico, se avete uno stuzzicadente e del cotton fioc. Io utilizzerò questo perché al momento sono sprovvisto di cotton fioc. Quindi procediamo al smontaggio. È molto semplice il smontaggio di questo laser. Grazie. Grazie. Benissimo. Per prima cosa si toglie questo che è composto dall'air assist. Non lo troverete molto sporco perché io solitamente lo pulisco quasi ogni 2-3 giorni. Dipende dall'utilizzo che faccio. Comunque, come primo passaggio imbevete un po' un pezzo di cotone nell'alcol isopropilico e pulite la parte esterna. Poi la parte più importante è questa interna. Soprattutto se utilizzate tante volte il laser per laserare immagini. Quindi non taglio perché si forma tanto, tanto, si brucia tanto materiale e va ad intaccarsi proprio all'interno del tubo dove passa l'air assist. Quindi vi conviene passare bene. Come vedete il mio è pulito. Comunque, se lo vedete tanto intasato, per prima cosa magari ci passate stuzzicadenti dall'interno per sbloccare un po' e togliere un po' le scorie. Fatto questo, si toglie l'OR che c'è qui all'interno, si dà una pulita alla lente e si rimette tutto su. l'OR. Listo. L'O. Ed ecco il laser pulito. Perché è importante pulire il laser? Perché quando è effettuato il test su Lightburn il test si può falsare perché magari ci sono delle scorie che impediscono al laser di effettuare il taglio correttamente. Quindi vi dà dei valori che non sono corretti. Ora vi faccio vedere su Lightburn un attimo come funziona il test. Bene, ora procediamo ad effettuare il test su Lightburn. Per prima cosa abbiate il vostro Lightburn. Se non ce l'avete lo potete scaricare gratuitamente in prova per 30 giorni. Poi siete obbligati a acquistarlo se volete continuare ad utilizzarlo. Io ve lo consiglio. Non costa tanto. È una specie di abbondamento annuale. Una volta avviato Lightburn dovete andare su Laser Tool, Material Test. E qui ci sono le impostazioni per effettuare il test. Allora, come sono predisposte le impostazioni? Allora, Count vuol dire che ci sono, vengono effettuate dieci tipi di impostazioni di velocità che partono da un minimo, in questo caso di 600 mm al minuto, a un massimo di 1800 mm al minuto. Vengono suddivisi in 10 parti. Ovviamente, se noi dobbiamo effettuare il taglio, non conviene partire da 600 mm al minuto con un laser da 5 watt. Conviene magari partire dal minimo, 60 mm, e arrivare a un massimo, secondo me, di 150 mm. Queste impostazioni sono le dimensioni del quadrato che lui deve tagliare, quindi lasciatele così standard. Se volete mettere più grandi, sta a voi, però vanno più che bene queste. E questa è la prima. La parte orizzontale, la colonna orizzontale, riguarda la potenza. Quindi parte da un minimo del 10% a un massimo, io gli darei un 90%, perché sapete, se utilizzare il laser al massimo della potenza non è conveniente per una durata del laser. Calcolate che io ormai questo laser ce l'ho da quasi due anni, quasi sì, quasi due anni, non mi ha mai dato nessun problema. Una volta impostato questo, voi potete accendere il vostro laser e fare il frame. Potete anche salvarlo. Io ho già delle preimpostazioni già fatte. Ad esempio, io ho messo il preset del materiale MDF con il laser 5,5 watt e sono queste le impostazioni che utilizzo solitamente. Tra l'altro, poi vi faccio vedere una cosa dell'MDF. Vi faccio vedere, ma non solo dell'MDF, ma di qualsiasi tipo di legno. Poi vi spiego, prima vi spiego questo un attimo, questo test, e poi vi faccio vedere il perché conviene effettuare il test ogni volta che si acquista un pannello nuovo. Comunque, una volta effettuato questo, si accende ovviamente la vostra macchina e si fa il frame. Fate il frame e vedete in che posizione si ferma il laser per effettuare il test. Un consiglio che vi do è di salvare il G-Code se volete ritagliarvi il pezzo di legno, perché in questo caso non viene ritagliato, viene effettuato solo il test. Cioè, praticamente non viene creato il bordo per poter ritagliare il pezzo di legno. Vi conviene salvarlo come G-Code. Ok, lo salvate dove volete. Io l'ho già salvato, comunque lo salvate e diventa un file G-Code. lo aprite, che è questo, vi create un quadrato attorno, poi valutate voi le impostazioni se volete rimpicciolirlo o renderlo quasi della stessa misura. Fate così e così. Non mettiamo blu. E gli date le impostazioni per effettuare il taglio. Questo lo eliminate. Una volta effettuato il taglio, non spostate il laser, lasciatelo lì in quella posizione. Andate a richiamare il vostro material test, quello che avete salvato, e fate il frame. Vedete che lui va a fare il frame attorno a quel quadrato già tagliato, così siete a posto e potete recuperare solo quel pezzo. Questo è un consiglio, dopo valutate voi, potete fare anche il frame e lasciare lì il pezzo. Ma io mi li ritaglio perché magari so che le MDF vengono male e si avvicina a quelle misure. Però vi ripeto, vi conviene sempre effettuare un test, dopo magari col tempo acquisito anche esperienza, però conviene sempre effettuare un test quando ho acquistato un pannello nuovo. Perché io magari acquisto un pannello di 4 metri, l'ultimo l'ho acquistato di 4 metri, però non 50, ma lo sono ritagliato di misura di come volevo, e so che quel pannello va tagliato a quella potenza lì. Comunque, questo è un esempio. Poi, essendo un laser a 5,5 W, in un solo passaggio non riesce. Quindi vi conviene, se avete 5,5 W, impostarlo due passaggi. Io ho provato un passaggio e non è riuscito a tagliare niente neanche al massimo della potenza. Con due passaggi è iniziato a tagliarle in diverse fasi della potenza che poi vi faccio vedere. Comunque basta che andate su Edit Material Setting, impostate 2 e siete a posto. Qui non serve che toccate niente. Il testo, come vedete, vi faccio vedere qua, viene a formarsi del testo qua attorno. Ok. Ritorno di nuovo qui. Andate su qui per velocizzare un attimo il testo, perché è quello che attualmente a voi non interessa, quindi potete metterlo, non so, a 600, a 35% di potenza, potete aumentare la velocità, potete fare quello che volete, anche se non si vede proprio perfettamente, è importante che si riesca a leggere per capire a che potenza e a che percentuale il laser riesce a tagliare. Io l'ho impostato a 635, poi valutate voi, insomma. Un attimo che devo disabilitarlo. Ok. E questo è uno. Ovviamente, magari a voi serve anche un preset per le foto, quindi potete effettuare anche un test per le foto. In questo caso la mia impostazione è di un minimo di un 400 e un massimo di 18.000, è tanto. Vabbè, lo lascio così preimpostato, anche se non arriva la velocità dei motori di questo laser, non arrivano a 18.000, scusate, non a 1800, ma a 18.000, comunque è una importanza. Mi interessa intanto il primo, a che percentuale è la laseratura migliore da effettuare. Anche qua vi conviene salvare il G-code, se volete ritagliarlo, e fare la stessa operazione che vi ho fatto vedere prima. Comunque, anche qui, fate un frame e vedete qual è la migliore impostazione. Ora, io vi faccio vedere i passaggi sull'aser perché li ho già fatti e andrebbe troppo di lungo questo video. Vi faccio vedere ora i vari tagli che ho effettuato. Bene, utilizzo questo box del processore per farvi vedere più da vicino i vari tagli. Bene, questo qui è il test del taglio. Come potete vedere, ve lo giro un attimo così, come potete vedere, ci sono le varie velocità, ok, millimetri al minuto, quindi parte da 60, arriva a 150, e le varie potenze, che parte da 10 a 90%, con due passaggi. Quindi praticamente viene effettuato un doppio passaggio ogni quadrato. Partendo dal 60 al 10%, come vedete, e tutta questa scala, non è riuscito a tagliare. Anche se vedete qua dietro, vedete che qua non è riuscito a tagliare. Ha iniziato a tagliarli da, praticamente, da un 60 come velocità, un 45,6% di potenza. Poi voi potete arrotondare, non serve mettere 45,6, fate sempre qualcosa di più. Mettete 45, mettete 46, ovvio. Però, il consiglio che vi do, non basatevi su questa. Cercate il livello medio, in base alla velocità, potenza. Quindi, secondo me, conviene andare a tipo A, 100, con una velocità dell'80%. Qua c'è 72,2, 81, 2,1, lo riesce a fare 82, quindi io mi fermo su 180%, che secondo me è la velocità ottimale, sempre con due passaggi. Questo vi aiuta molto, questo test qua, è importante. Ora vediamo quello delle foto. Come vedete, sarebbe il riempimento del quadrato, praticamente dopo per capire quanto scura volete l'immagine della foto che voi vorrete andare a laserare. Come vedete, parte da un 400 mm al minuto, 10% di velocità, fino al 40% di potenza, che già è troppo, secondo il mio punto di vista. E qua, praticamente, sta a scelta personale qual è la migliore impostazione. Io adesso non posso dirvi qual è la migliore impostazione, perché sta ad occhio o anche dal disegno o dalla foto che dovete laserare. Comunque, questo è il secondo test. Quello che vi stavo dicendo prima è, per farmi un esempio, ah sì, mi sono dimenticato. Ecco, questo volevo farvi vedere. Come potete vedere, io ho iniziato a fare una prova a un solo passaggio. Come vedete, già a 100 mm al minuto, al 90%, non riusciva a tagliare, quindi non avrebbe avuto senso continuare a fare altre prove con un solo passaggio. Comunque, è inevitabile che con 5,5 watt, dovete almeno passare due volte. Poi, per quanto riguarda l'MDF, questo è un secondo pannello che io avevo ricevuto. Come potete vedere, non so se si riesce a vedere dal video, però è un colore leggermente più scuro con fronte a questo. Lo spessore è sempre quello, però ho notato che sia con due passaggi che con tre passaggi non sono riuscito a forarlo, perché è un MDF, come vedete qua dietro, qua è riuscito appena appena, però basta. Questo è un MDF, un po' più, boh, sarà, il materiale sarà più pressato, non saprei neanch'io dirvi, però è per quello che vi dico che ogni pannello che fate, il mio consiglio di fare una prova di test. Ovviamente, se dovete fare dei grandi progetti, se dovete fare cose piccole, provate, vedete, insomma. Oppure, se dovete fare degli oggetti in grandi quantità, vi conviene sempre prima effettuare un test per non fare dei file che poi buttate via solo materiale. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto e sia stato molto interessante. Vi ho fatto vedere i vari passaggi per effettuare un test, per essere sicuri perlomeno al 100% di come andrete a realizzare il vostro progetto, che sia tagliato o che sia disegnato perfettamente. Vi ricordo di mettere un like se vi è piaciuto questo video. Commentate pure se avete delle domande da chiedere. Io sono sempre a disposizione per qualsiasi domanda. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!